Vip in forma per l'estate? Sì, grazie. All'uomo ha aperto i battenti a Roma la palestra Fitness Lounge e si sono riunite per l'occasione star come Loredana Cannata, Antonella Mosetti o ancora la sofisticata Giulia Elettra Goretti e altri giovani talenti come lo scampinato Ludovico Fremont e la spericolata Giorgia Burt. I maschietti dei Cesaroni scherzano mentre le ospiti bellissime incantano tutti. Ma durante un fresco Vip del genere si riuscirà anche a parlare di forma fisica. Musica Musica